Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Troviamo inoltre i rallentamenti per traffico tra Barberino e Calenzano, ancora una volta in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, rallentamenti a code per traffico verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il B via 11A1. In FIP lì i rallentamenti per gli spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Arriviamo al traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, troviamo restringimenti fino a fine ottobre tra via Gordigiani e via Buonsignori, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!